Ciao Apetaste, è incredibile e sono sempre molto affascinato da queste coincidenze. Escono in questo 2024 due film d'animazione molto simili sull'assenza dell'uomo e molto simili anche su una, che è un errore anche, a lungo andare, imprecisata ambientazione, che è una cosa che sia quando ho visto il robot selvaggio sia quando ho visto Flo, Flo fra poco esce in sala ed è già uno dei film d'animazione, sono due film d'animazione che hanno fatto già sfracieli in senso buono ai festival, Flo è stato presentato a Cannes ed è andato molto bene a Cannes 2024, non in concorso, mentre il robot selvaggio è stato presentato al Toronto International Film Festival nel 2024 ed è andato molto bene. Arriveranno agli Oscar, possono partecipare tutti e due alla categoria miglior film d'animazione e Flo può partecipare anche in teoria a miglior film international. Sono due film di scuole diverse, ma con questa stessa impostazione noi non ci siamo più, l'essere umano non c'è più, ci sono robot, ci sono animali, soprattutto animali, l'ambientazione è misteriosa e questo per quanto riguarda me a lungo andare mi ha appunto anche un po' creato un problema. Perché? Perché ormai siamo proprio in un altro mondo, no? Cioè è difficile fare animazione oggi per me, è difficilissimo, perché tu come approcci ai bimbi che è un pubblico bellissimo, un pubblico necessario, un pubblico stupendo che ovviamente non interessa ai cineasti italiani e all'industria dell'audiovisivo italiana tranne me contro te e tranne Lillo grazie al cielo che sta rientrando in questo tipo di area. Noi facciamo cinema per bambocci ma non facciamo cinema per bambini né tv per bambini, ma torniamo a questi qua che invece hanno questa intenzione. Da una parte c'è Dreamworks, il robot selvaggio, dall'altra vabbè basta Flo, però gli animali, gli animali selvaggi, i loro comportamenti, l'avventura e l'estraneo e anche il senso di fare squadra e il senso di fare famiglia. E' chiaro che con Dreamworks si va di più verso anche proprio valori tradizionali della famiglia, anche se la famiglia non è allargata, la famiglia è robotica, o meglio è allargata perché un robot può fare da mamma. Nel robot selvaggio di Chris Sanders, grandissimo animatore ossessionato dall'esterno che arriva dentro un ambiente ostile a lui, ossessionato dalle straneità, quindi sia in Yellow Stitch sia in Dragon Trainer c'erano sempre degli stranei, delle creature aliene, ossessionato anche da un senso della morte quasi esilarante perché è un animatore che la morte non solo la rappresenta ma spesso ci fa anche dello humor che non è così facile, per esempio in Cruise che è una cosa che io adoro, che ha fatto lui, la famiglia dei primitivi, c'è sempre la suocera di lui, del protagonista maschile che lui desidera che muoia e lui ogni giorno sta lì che spera che... perché c'è qualcuno che sta andando a svegliare nonna, quello fa parte del grande filone che sta tornando, dei nonni che dormono con noi, a casa con noi. C'è ancora domani l'animazione di Enzo Dalot ambientale in Irlanda e Cruise e quindi sempre lui che fa delle facce pazzesche perché sta aspettando, spera sempre che qualcuno quando la sta andando a svegliare non riesca a svegliarla perché è morta e lui... e poi sono viva e lui... e anche Pannofino è esilarante perché ti immagini Pannofino che spera sempre e è perché è lui che dà la voce a Cruise. Ok. Qua nel robot selvaggio c'è un momento di morte magnifico perché c'è questo robot gentilissimo, un po' troppo già visto, è un mashup praticamente di Bimax, di Big Hero 6, di BB-8, di Star Wars, di Wall-E ovviamente e del gigante di ferro. Però dal punto di vista il look è proprio una fusione di BB-8 e di Bimax. C'è tutto questo concetto, è un robot tutto di sfere rotanti, ovviamente polifunzionali, rotanti e in rotolamento e poi ovviamente ha ste Braccione e ste Gambone e poi uguale a Bimax praticamente. Ed è una donna, è una donna gigantesca, gentilissima perché si chiama Rozoom7134 ma è tutto tranne che Roza, anzi è fin troppo gentile perché? Perché in questo mondo che non è il nostro e che mi inquieta, è come se gli animatori avessero voluto proprio eliminare il problema del mondo difficile di domani, no? Che i bimbi già sentono terrificante da essere un bambino oggi, tutte queste cose che sentono di sull'iscaldamento climatico, mondo che cambierà, mondo che finirà, guerre, soprattutto un mondo, perché l'animazione è sempre stata a contatto con la natura, no? Ovviamente è un mondo di natura che forse sta per finire. Quindi arrivano questi due film pazzeschi in questo 2024 di animazione molto belli dove c'è proprio la proposta che noi non ci siamo più, che noi non ci siamo più e tranne nel robot selvaggio dove c'è ancora un pizzico di umanità che però è fuoricampo nel linguaggio e nella costruzione. Chi li ha fatti questi robot? Perché esiste Rozoom7134? Dove siamo noi esseri umani? Questo robot è un'intelligenza artificiale costruita per accudire qualcosa, qualcuno, ed è, finisce per sbaglio su un'isola dove ci stanno tutti i animali selvaggi. E dov'è che fa lo humor pazzesco il grande animatore Chris Sanders sulla morte? E che Rozoom chiede continuamente a tutti questi animali che la vogliono ammazzare se può dare una mano? E l'inizio è il più bello, la cosa più bella del film, ricorda la grande animazione di isolamento dei personaggi come Wiley Coyote e Beep Beep all'interno di scenari fissi e disabitati. Questo ha sempre funzionato, funziona sempre, tanto che pure Wes Anderson in Astrid City ovviamente dà omaggio a Beep Beep e c'è il Beep Beep proprio che passa nel suo deserto di Astrid City, nella sua città desertica, nel suo mondo desertico. Qua non è tanto desertico, è un'isola anche molto lussureggiante di vegetazione dove finisce sta robottona gigantesca che è gentilissima e chiede allora dov'è che arriva la morte? È magnifico perché lei chiede a un certo punto ciagranchi, pesci, cose, lei chiede posso esserle d'aiuto a chiunque con appunto il linguaggio proprio, posso esserle d'aiuto? È strutturata sul linguaggio umano, quindi noi ci siamo ancora. Posso esserle d'aiuto? C'è Nupita Liyongo che fa dalla voce in originale e nessun animale risponde. Alcettutto lo chiede a un mollusco piccolino, posso esserle d'aiuto? Vum! E passa un gabbiano che è aiutato, lei è stata d'aiuto per il gabbiano perché gli ha messo il mollusco proprio bene e passa, lo prende e lo mangia. Questa è la parte più bella del robot selvaggio perché lei finisce con tutta questa azimata come veramente C3PO perché ovviamente c'è sta anche C3PO, il maggiordomo inglese, scusate, scusate, e lei è proprio, proprio il Daniels di... Per quanto riguarda questa forbita, educata e anche però abbastanza ossessiva tendenza al fornire aiuto e quindi posso aiutare? Avete bisogno di me? E' chiaro che non è più il maggiordomo balbettante fantastico di C3PO di Guerre Stellari e non è nemmeno ovviamente R2D2, non è nemmeno R2D2, il grande avventugliero che appunto è il robottino. Dove vai robottino? Sono cazzetti miei stronzo. No, questo è Ridere per Ridere di John Landis in grande edizione italiana. Detto ciò, invece qua non è un robottino, è un robottone, è meno cattivo del robottino di Ridere per Ridere perché appunto è buona, è buona, è buona. Allora a un certo punto lei capisce che si deve adattare al linguaggio dei questi, che so, volpi, bastarde, castori, bastardi, procioni bastardi, opossum che appena la vedono fanno finta di essere morti e lei cerca di imparare il loro linguaggio. Ovviamente lo impara perché è un'intelligenza artificiale pazzesca e interagirà con loro e allora c'è anche il gioco che sentiremo gli animali parlare perché lei ha decrittato il loro linguaggio e quindi c'è una coine e quindi si decide di usare ovviamente l'inglese in questo caso. Sappiamo che l'ha costruita Universal Dynamics sta a Rozum7134 che diventerà Rose, che ricorda anche Rose, a Rose, a Rose, a Rose, a Rose, e invece Rose, vabbè l'avete capito che cos'è, è gentilissima, a un certo punto ovviamente nel bellissimo inizio in cui non fa altro che fare capitomboli, lamenano, cade, cade dai burroni, se fa male, cerca di parlare con tutti e tutti gli animali le vanno addosso, entra in una caverna e un orso la attacca e lei cade, ruzzola, subisce dei danni, è stupendo l'inizio, è stupendo perché potresti vederlo per ore, come quello con la ghianda in Ice Age, potresti vederlo per ore, come Wily, Coyote e Bip, potresti vederlo per ore, perché effettivamente è tutto così giusto, è scritto così bene, gli animali non sanno che farci con questa e ovviamente la volpe, come in Zootropolis, la volpe è sempre colei che è un po' anfingarda in chiave antropomorfica, non si mette su due zampe come in Zootropolis, ma è comunque Fink, il personaggio più, anche, che vede sto giro, il robottone capisce che ci può essere un lucro possibile, ci può essere un investimento che puoi fare lì, ovviamente tra tutti i casini che combina Rose, quando arriva su questa strana isola disabitata da noi esseri umani ma abitatissima da fauna e flora, ovviamente beccherà a certo punto pure un nido di oche e un pulcino, che lei, un nido che lei, anche lì c'è un elemento di violenza, è un elemento di morte, perché Sanders la mette sempre nelle sue opere, molto spesso, molto interessante questo, e lei però farà schiudere un uovo dove c'è dentro un pulcino che a quel punto con l'imprinting che vede sto robottone gigante e va lì e le si mette sul collo. Occhio per questa cosa del collo, gli americani sono molto bravi a beccare cose emotive, a creare in sceneggiatura appunto un particolare che poi arriverà in una scena madre proprio a farci piangere, a farci commuovere. E quindi parte sta storia, veramente questo porto di un modo molto divertente, dove l'unico difetto è forse un po' il design delle oche che abbiamo già visto, c'erano queste anatre in migration, che era appunto questo film sulla migrazione, perché? Perché là poi è quello che un po' a me non piace del robot selvaggio di Sanders, cioè ok, chi sono queste oche, perché c'è la serra, perché c'è la serra con i robot che lavorano, dove siamo, a un certo punto mi è mancata un po' di contestualizzazione, ma probabilmente ci sarà nel sequel, qualora sta andando bene il film, qualora, perché loro hanno bisogno disperatamente di nuove IP, di nuove saghe da cominciare, questa è possibile, è passibile di saga perché, e quindi potrebbe essere che abbiano eliminato completamente qualsiasi anche riferimento geografico, come Flow. Flow ha anche delle cose che a me poi anche in chiave mistica, spirituale, un po' mi agghiacciano, però insomma sono tutte, sono due animazioni molto interessanti, che eliminano il problema del dire ai bambini che domani sarà tutto un disastro, eliminando il tutto, ed è la causa del disastro, cioè non ci siamo più noi. Questo è molto estrema come scelta, però in un certo senso la capisco. Certo è, devi però appunto poi a un certo punto arrivare anche come il buco, ci puoi girare come gli autori del buco, il buco 2 che sta spopolando di nuovo su Netflix, puoi fare tutti i tuoi giochi, ma a un certo punto tiri la corda, tiri la corda, tiri la corda, occhio che la corda si spezza, a un certo punto è un patto proprio di narrazione, tra noi che riceviamo e loro che danno, a un certo punto dobbiamo un attimo capire di più che cosa c'è dietro il racconto. Quello che sta avanti al racconto è Rose, è il pulcino che si chiama Becco Lustro, poi conosceremo anche Collo Lungo, il capo delle oche, e poi conosceremo l'orso che si chiama Thor, la volpe si chiama Fink, c'è Coda Rosa che è una mamma opossum, da morire anche l'idea della morte degli opossum, lei va in giro con questi opossum figli suoi e lei dice Fingetevi morti, così, perché la morte è sempre dietro l'angolo per la natura selvaggia e a un certo punto c'è un bimbo opossum che fa, mamma ma perché non siamo ancora morti, questo effettivamente non, io non lo so, perché appunto la mamma opossum, questi sono pronti sempre a morire così, Sanders lo sa, non vuole, non vuole mentire davanti a noi e quindi anche come Cruz, quella gag pazzesca di Cruz, con lui che, cioè Belushi l'avrebbe fatta benissimo, infatti secondo me erano ispirati anche un po' a Belushi, ah, è morta? Sono viva! Ogni giorno così, quando la sua cena non moriva, troppo divertente, humor adulto pesante. Qua invece c'è, a un certo punto c'è il cuore, c'è il corpo, degli animali, The Rose e c'è questa, anche, e che c'è quest'altra cosa uguale che c'è in flow del fare squadra, una sorta di arca di Noè, dove dobbiamo metterci tutti insieme per provare a capire domani che cosa accadrà, però poi il robot selvaggio ha questo elemento della Universal Dynamics che uno dice ok, ma allora aspetta un attimo, ma è Terminator, ma è Matrix che è l'espansione Terminator, ma infatti c'è qualcosa legato a Matrix. C'è una piovra, intelligenza artificiale, matrixiana, piovresca, e poi c'è una scelta molto classica che nella fantascienza è veramente sempre molto convincente per quanto mi riguarda, perché tu ci metti la tecnologia, tu ci metti la super tecnologia, una tecnologia avvenilistica e poi tu ci metti quello che proprio non c'entra niente con la tecnologia, un bacio o un amore o un dire ti amo che è come nel primo Matrix, pochi lo ricordano, rompe ogni regola della pillola, delle pillole, dei mondi, appunto del mondo di sotto, del mondo finto immaginario, del mondo vero in cui stiamo dentro le astronavi e tutto è lucubre, è tutto di sopravvivenza, è tutto più meccanico, anche più comunque rispetto a dove voliamo la meraviglia dei due mondi di Matrix, ma poi un bacio, la cosa più pacchiana e più veramente la cosa più improbabile, il bacio, è il bacio, il bacio può salvare tutto, infatti i baci oggi fanno schifo nella maggior parte dei casi e invece i baci, ricordiamoci che nel primo Matrix è un bacio che contro tutto e contro ogni logica risolve la situazione, qua c'è la stessa identica cosa e più questi animali e i robot che fanno amicizia e passano anche, c'è anche un po' di tempo che passa che anche qui uno dice ok ma allora la serra ma dove siamo noi esseri umani e Universal Dynamics che ovviamente questa si è persa, ROS si è persa, vi pare che Universal Dynamics, la grande corporation probabilmente gestita unicamente dai robot in questo momento perché hanno preso loro il controllo, probabile secondo me, vi pare che non va a cercare ROS e allora non entriamo nella dinamica del no ma ROS sei una di noi, animazione com'è da paura, fantastica, come fai a fare grande animazione con ROS? La sporchi ovviamente e inserisci e la contamini e quindi ROS a un certo punto comincerà ad avere pezzi di erba in testa, avrà la wildness sul suo corpo molto simile a BIMAX molto simile a BB8 che ovviamente è bianco e lucido perché lei non è arrugginita come il gigante di ferro, non è arrugginita come quello lì, è più proprio un'idea di proprio bianco, lucente, gommoso come BIMAX e quindi l'animazione è stupenda, è stupenda perché è un'animazione al computer fatta anche che vuole evitare questo fotorealismo così appunto lucido, perfezionista, è stato bravissimo Sanders a capire che doveva andare più verso veramente l'impressionismo, macchie e guardate vabbè, avete capito, anche Flo fa una cosa del genere, che bello, più imperfezione, più macchia, meno nitido, più macchiato, me lo fa più macchiato il cartoon? Come al bar, meno nitido e qua lui capisce che questo è il segno di quest'epoca che viviamo e ovviamente c'è anche il grande maestro Miyazaki dietro come fonte di ispirazione visiva, quindi insomma è bello, è un bel cartoon da vedere insieme a, vabbè poi c'è una cosa che mi ha ricordato Rankserox che vabbè ho capito, eh lo so, lo so, sì, voi direte no, aspetta scusa, quello era un altro robot, molto diverso, sempre robot era. Noi facciamo Pup Music come animazione e addirittura a livello statale lo abbiamo finanziato, qualcuno si dovrebbe vergognare, qualcuno si dovrebbe dimettere, qualcuno che era nelle commissioni, in quelle commissioni dovrebbe proprio chiedere scusa e invece questi fanno i robot selvaggio e Flo, Flo è europeo, è un'animazione europea e questa invece è Dreamworks. Oggi abbiamo parlato più del robot selvaggio di Chris Sanders e poi quando arriverà Flo parleremo più di Flo. Ciao Backtaste, Peter Brown è la fonte originaria in chiave letteraria di questo film e Chris Sanders è veramente bravo. Tu non sei mia mamma! Come sarà il rapporto tra Beccolustro e Rose, eh? Di Salah, sua mamma? Questa è la Wilderness e io sono un robot selvaggio. Sì, il robot selvaggio arriva con la grande battuta madre, come anche c'è un grande momento madre legato proprio a un personaggio che fa la madre. Il robot selvaggio Chris Sanders, presentato al Toronto International Film Festival. Ciao Backtaste! Ciao Backtaste! Grazie.